Sono Isidoro Guerrerio, responsabile ufficio della rappresentanza San Paolo Brasile e regional manager per l'America Latina del gruppo UbiBanca. Il nostro ufficio di rappresentanza di base a San Paolo del Brasile offre servizi e supporto alle aziende nostre clienti o potenziali clienti sotto principalmente tre tipi di attività. Un'attività prettamente di consulenza in quanto essendo da anni sul mercato brasiliano possiamo introdurvi e presentarvi quelli che sono i consulenti professionisti con i quali collaboriamo da diversi anni e di elevata professionalità. Il secondo è un aspetto commerciale che è quello di assistenza e supporto per quanto riguarda i primi contatti di penetrazione nel mercato oppure di una rete commerciale, di un distributore, di un controparte locale. E la terza è anche quella di un investimento importante sul mercato come un investimento diretto. E l'ultima attività direi un'attività prettamente di nostro core business che è un'attività di assistenza e di relazione con le banche locali corrispondenti con i quali noi collaboriamo. E abbiamo ovviamente selezionato per creare una struttura finanziaria per supportare la filiale locale nel paese. In noi i clienti trovano un know-how e una professionalità molto approfondita per supportare al meglio queste loro iniziative e sul quale possono fare leva senza affrontare il mercato con problematiche in quanto ovviamente il mercato ha le sue complessità che devono essere affrontate nei dovuti modi per partire con il piede giusto. Grazie a tutti.